Elmo, testimoniamo che siamo tutti vestiti, testimoniamo che c'è la bandiera, guarda che belle, girati anche per te, questo qua è un paschietto, è bellissimo, quando ve l'è qua? Il capitano dacci la rossa, dove stiamo andando? Facciamo le dichiarazioni delle bambine? Beh direi che questo è il compito della capocambusiera Grazie a tutti Grazie a tutti